buonasera a tutti allora sono contenta di essere riuscita a venire perché appunto giovedì sera mi sono rotta il menisco e a roma e ho pensato però ormai ero preparata tutto era preparato non potevo non non venire e come mai quando mi è stato chiesto se volevo partecipare a questo ciclo di incontri ho scelto ho chiesto se fosse possibile parlare di moravia viaggiatore allora quando uno scrittore in vita c'è naturalmente una prevalenza della sua attività la sua di scrittore di narratore che la fa diciamo è la cosa di cui più si parla ma poi quando passano un po di anni dalla morte cominciamo a rivalutare l'intera figura e magari delle dei suoi versanti che erano rimasti in ombra vale la pena di rimetterli in luce perché secondo me moravia viaggiatore è importante perché l'italia non aveva una tradizione di viaggiatori non aveva una tradizione di reportagisti in giro per il mondo i grandi viaggiatori sono stati gli inglesi e i francesi sono stati scrittori che con paesi coloniali con tradizioni coloniali avevano diciamo degli scrittori che andavano in giro nei paesi colonizzati per esempio il Grand Tour che era fatto per lo più da scrittori o da giornalisti o anche da figli benestanti dei ricchi inglesi e che finiva tutto in diari e poi ci sono stati i grandi viaggiatori inglesi cioè Chatwin per esempio ma anche Sir Lermon cioè l'Inghilterra ha prodotto molti viaggiatori lo stesso dicasi per la Francia a un certo punto Moravia come tutti sapete era un bambino affetto da tubercolosi ossea a nove anni si mette a letto e ci resta per degli anni poi va in sanatorio e cosa fa? Legge, legge e sogna di uscire da quel letto si sogna di uscire da quel letto sia leggendo i romanzi sia leggendo i viaggi dei grandi scrittori in particolare legge Baudelaire, legge Stendhal, legge Gregorovius e si appassiona all'attività di viaggiatore di questi grandi scrittori tant'è vero che poi più avanti nella sua vita dirà che il viaggio per esempio in Africa lui diventa, gli viene il cosiddetto mal d'Africa dopo gli anni 60 si appassiona all'Africa nera e dirà che il viaggio in Africa per un suo contemporaneo è come per Stendhal era il viaggio in Italia la descrizione dell'Italia che allora era un paese abbastanza selvaggio e primitivo soprattutto andando in meridione, verso il meridione e dice quindi sono come Stendhal quanti Moravia ci sono? sapete che ce ne sono tantissimi la cosa più importante è il narratore, il romanziere poi c'è l'intellettuale guru poi c'è il critico d'arte, esperto d'arte poi c'è lo sceneggiatore, c'è il critico cinematografico ci sono tantissimi Moravia c'è l'uomo, l'intellettuale che prende posizione per esempio dopo il viaggio in Giappone va a Hiroshima si rende conto che c'è il rischio che la guerra e il rischio nucleare è una delle cose più assurde e più gravi che possono capitare alla nostra umanità e scrive un libro e diventa un attivista contro la guerra quindi insomma ci sono tante cose che caratterizzano la sua attività fra cui questa di scrittore di viaggi ho parlato di Moravia qualche giorno fa con Gian Arturo Ferrari Gian Arturo Ferrari è stato un grande editore italiano importantissimo editore a capo della Mondadori per decine di anni prima la Rizzoli appena pubblicato un libro che si chiama Storia Confidenziale dell'editoria italiana molto interessante per chi è appassionato all'editoria e gli ho chiesto ma tu cosa ne pensi di Moravia? e mi ha detto una cosa da un certo punto di vista lo sapevo ma detto da un editore mi ha fatto un'altra impressione ha detto Moravia ha inventato il sesso è stato il nostro Freud ha capito che il sesso era il centro di una cosmogonia in Italia di sesso nessuno scrittore aveva mai parlato e anche dopo se ne è parlato pochissimo e questo fatto che lo ha fatto lo ha reso anche un po' il nostro Philip Roth cioè mentre in altri paesi c'erano scrittori che raccontavano e descrivevano il sesso anche con crudezza come appunto Philip Roth in Italia c'era solo Moravia che lo faceva però questo mi ha detto Ferrari da editore lo ha penalizzato perché Moravia non si legge più noi oggi leggiamo Calvino perché? perché Calvino è stato adottato dalle scuole cioè è finito nelle scuole i ragazzi crescono leggendo Calvino nessun ragazzo legge Moravia a scuola quindi non è più vivo non è più al centro del dibattito nessuno legge più Moravia perché non sa chi è mentre Calvino continua a essere uno scrittore che le nuove generazioni conoscono se non altro perché a scuola glielo fanno leggere Calvino era un freddo un razionale e anche un uomo timido e riservato e ovviamente non ha mai scritto nemmeno un rigo che riguardasse il sesso ecco quindi questa interpretazione della sfortuna postuma di Moravia detta da un editore mi ha un po' illuminato perché chiaramente un editore lavora in termini ragiona in termini di copie vendute anche di quanto dura uno scrittore oltre la sua morte e quindi insomma la scuola adottando uno scrittore ha questa funzione di dargli una vita più lunga oltre la sua esistenza terrena parliamo invece di di Moravia e dei suoi viaggi chi abbiamo avuto noi in Italia che raccontava viaggi un pochino Parise un altro che nessuno un altro scrittore che nessuno legge più Goffredo Parise molto Tiziano Terzani che però era un giornalista non era uno scrittore alla fine è diventato un guru un filosofo e molto anche la Fallaci che era una giornalista un attivista se vogliamo oggi lo diremmo la diremmo un attivista però il panorama è molto molto risicato poi Pasolini un po' ha scritto di viaggi un pochino Manganelli qual è poi il problema? è la committenza naturalmente uno scrittore che scrive in inglese ha tutto il suo pubblico del Commonwealth che lo legge senza bisogno di traduzione e poi ha dei lettori che sono cosmopoliti come mentalità perché sono cittadini del Commonwealth quindi sanno che il loro paese include altri paesi gli italiani invece hanno ovviamente non avendo avuto noi un'avventura coloniale significativa abbiamo come come nostra testa siamo molto più concentrati sul passato sull'antichità sull'antica Roma su una tre del rinascimento cioè sul nostro paese quindi la sua figura di viaggiatore e di reportagista è per il panorama italiano abbastanza anomala quando inizia a viaggiare Moravia? inizia nel 1930 è finalmente guarito nel 1929 esce gli indifferenti è un grande successo c'è il fascismo c'è inizia l'antisemitismo a Moravia dà fastidio l'atmosfera la cappa culturale che grava sull'Italia è stato a letto anni è stato in sanatorio anni ha voglia di girare prende e va in Inghilterra e va in Inghilterra va a Londra e anche perché perché ci sono volevo dirvi la mia invidia di contemporanea rispetto a Moravia poi vi leggo la quantità di viaggi che ha fatto questo mondo di uno scrittore che racconta i suoi viaggi oggi è impensabile impossibile perché non c'è il committente che paga il viaggio un giornale che mantiene uno scrittore o un editore che mantiene uno scrittore perché vada in giro per il mondo e lo racconti non esiste più cioè a malapena ti paga se scrivi dal tinello di casa tua altro che andare in giro e pagarti i viaggi e sono rarissime le volte in cui magari viene ingaggiato a causa di un evento che ne so l'invasione dell'Ucraina allora mandi la prima firma scrittore del tuo giornale e gli fai fare una settimanuccia ma neanche tre giorni Moravia stava in giro otto mesi a spese di un giornale oggi neanche più gli inviati del giornale cioè i giornalisti vengono pagati così e quindi diciamo ha avuto i mezzi per girare il mondo e poi sono cambiati i metodi cioè oggi ci sono i documentari quando Moravia inizia a viaggiare nel 1930 e poi comunque fino alla morte non ci sono tutti i canali televisivi che abbiamo oggi l'apoteosi del documentario oggi se qualcuno vuole testimoniare un paese un luogo un luogo nascosto recondito fa un documentario viene ingaggiato per girare un documentario non scrive duemila pagine di reportage però poi la parola scritta rimane questa è la cosa è difficile che io mi vada a pescare un documentario degli anni 30 magari ne trovo degli spezzoni trovo degli spezzoni di girato degli anni 60 o degli anni 70 li trovo su YouTube ma la realtà è che questi reportage a me sono serviti anche poi viaggiando per il mondo ho letto le descrizioni ho fatto un parallelo tra quello che vedevo io e quello che aveva visto lui lui poi è tornato tante volte negli stessi posti magari ci è andato negli anni 30 poi ci è riandato negli anni 60 poi ci è riandato durante gli anni 80 e ha visto la trasformazione e la documenta e quindi quando io lui era una persona che si preparava moltissimo aveva era un uomo estremamente razionale come avrete già sentito dire nei precedenti incontri laddove Pasolini suo compagno di viaggi era un emotivo un sentimentale sentimentale Moravia era un razionale c'era tra lui e quello che vedeva un distacco il distacco che lui metteva perché non voleva narrare dal di dentro ma dal di fuori voleva guardare e cercare di renderci una situazione oggettiva per cui si era preparato aveva studiato era curiosissimo quindi arrivava nei luoghi intervistava stava con le persone locali cercava di incontrare persone eminenti e persone totalmente anonime si informava tra l'altro rispetto alle persone del suo tempo ai suoi coetanei Moravia sapeva l'inglese e sapeva il francese ricordatevi che allora non era così comune non lo è neanche adesso ma aveva come dice come dice Enzo Siciliano aveva il lessico base per esprimersi con disinvoltura ovunque riusciva persino a tenere lezioni nelle facoltà americane facendosi capire perfettamente pur non avendo non essendo madrelingua inglese aveva comunque una grandissima facilità nel nel parlare voi considerate che per esempio Vittorini che faceva anche il traduttore e che consegnò quella bellissima raccolta che si chiama americana di racconti appunto americani Vittorini non era mai stato in America non è mai stato in America Salgari o Salgari non mi ricordo mai come si dice mai uscito da Torino o da Verona cioè gli italiani inventavano piuttosto ma non andavano lui va va nei posti e parla con tutti dunque adesso vi spaventate perché ho molte pagine qui con me ma non ve le leggerò tutte ecco quindi allora lui parte se ne va nel nel 30 se ne va a Londra intervista quelli del gruppo Bloomsbury Litten Stracci che era l'autore di Eminence Victorians un libro stupendo che vi consiglio Forster Yates e per chi va va per la stampa questi farà dei reportage da Londra e dall'Inghilterra per la stampa che allora era diretta da Malaparte quindi diciamo sempre nomi di grandissimo rilievo in seguito lui viaggerà con la Callas con la Maraini con Carmeliera con la Morante la sua prima moglie con Pasolini appunto con Enzo Siciliano e anche con Lorenzo Cappellini dimenticavo che è un fotografo molto importante e insomma in tutti questi viaggi lui ha sempre un committente che appunto anche l'Espresso è stato un giornale su cui lui ha scritto moltissimo poi a un certo punto torna dall'Inghilterra fa questi viaggi racconta l'Inghilterra c'è anche io sono un appassionata di cibo fra le varie cose come Moravia diversifico molto oltre a fare la scrittrice oltre a scrivere un po' sui giornali faccio anche la critica gastronomica o perlomeno la scrittrice che scrive di ristoranti in questo in questa raccolta di saggi c'è una una descrizione di di come mangiano gli inglesi negli anni trenta dei cibi che mangiano che è agghiacciante è molto divertente veramente agghiacciante e mi ha subito fatto ricordare una cosa simile scritta invece agli inizi degli anni sessanta da Natalia Ginzburg che va a Londra col marito col secondo marito che era un anglista e anche lei rimane sterefatta da come mangiano male questi inglesi e vive a Londra e quindi fa delle descrizioni spaventose che ti atterriscono del cibo inglese quindi anche Moravia ha questo senso view humor di raccontare il cibo anzi se riesco anzi trovo subito la pagina che me l'ero segnata voglio darvi è un saggio perché sono i primi reportage il quartiere dove si mangia perché così avete un'idea di come già da giovane era brillante nelle descrizioni la cucina inglese è certo la più rozza che ci sia consistessa in alcune minestre assai pepate negli arrosti di montone di bue di agnello e l'uso vorrebbe che questi animali se ne presentassero dei quarti interi come ai tempi di Rabelais e in alcuni legumi lessati e in un gran numero di padding sono sia budini tutti disgustosissimi che vanno dal peggiore il padding di pane al migliore il Christmas padding altro non c'è e se non c'è non è roba inglese o imperiale come si dice ora potrei andare avanti perché è tutto molto divertente sono una decina di pagine di descrizione anche dei locali dei ristoranti dei negozi di alimentari di Londra scritta negli anni 30 esattamente questo reportage è stato pubblicato sulla stampa il 25 aprile del 1931 allora secondo Dacia Maraini lui nei viaggi era instancabile convinto che la ragione e la razionalità potessero risolvere i problemi disponibile aperto curioso Enzo Siciliano suo grande amico con cui poi aveva fondato nuovi argomenti segnala che aveva una cura scrupolosa dell'igiene nei viaggi portava portava solo bagaglio leggero abiti funzionali stile da reporter anglosassone e considerava la contrarietà lo scopo del viaggio cioè il fatto che mai nulla va come avevi previsto che non arriva la nave che perdi il treno che si buca la macchina la ruota della macchina che ti sta portando che rimani per caso nella notte nell'Africa nera senza mezzi senza tenda senza niente che manca il cibo ecco tutte queste contrarietà lui le considerava una parte indispensabile del viaggio e quindi non se ne dava problema aveva un'attrazione per l'ignoto una curiosità antropologica e anche il piacere per il rischio nel 35 Moravia parte e va a New York invitato da Prezzolini e le sue descrizioni dell'America poi ne parliamo meglio sono bellissime se ne sta otto mesi addirittura otto mesi e tiene lezioni alla Colombia però siccome si stufa a un certo punto prende perché lui era sempre impaziente prende un biglietto e se ne va in Messico in Messico è rischiosissimo oggi provate a immaginare quanto era rischioso allora per un viaggiatore da solo poi tra l'altro mezzo claudicante insomma eppure prende e va in Messico poi se ne va in nave in Cina e sta quattro mesi cioè due mesi sono di viaggio tra andate e ritorno più due mesi resta là poi se ne va per sei mesi in Grecia poi a Caprico nel Samorante poi va in India ecco i viaggi sono veramente tantissimi quando va in Cina nel 1937 ci sono anche Weston Oden e Christopher Iserwood quelli fanno un reportage che sarà famosissimo a quattro mani sulla guerra in Cina lui invece descrive la Cina rurale poi ne riparliamo l'ultimo viaggio che fa Moravia è in Irlanda che lui trova spopolata ma non vuota cioè mentre la Grecia gli dava l'idea di un posto spopolato cioè si chiede dove è finita la gente tutta quella gente che c'era ai tempi dell'antica Grecia gli dà l'angoscia a vederla spopolata mentre la Spagna gli dà l'idea di un posto vuoto cioè spazi immensi vuoti di nuovo invece l'Irlanda gli dà l'idea di essere spopolata ma non vuota questo viaggio lo fa nell'anno della sua morte nel 1990 muore il 26 settembre mentre questo ultimo reportage da Derry in Irlanda del nord lo consegna il 5 agosto vi leggo l'indice dei viaggi perché rimarrete stupefatti alla fine vi suonerà come un mantra una preghiera Allora Inghilterra 1930 1932 sono vari viaggi che fa tra il 30 Ciecoslova Vakia 1931 Francia 1932 Stati Uniti 1936 Messico 1936 Cina 1937 Grecia 1939 Inghilterra poi c'è la guerra Inghilterra 1948 Francia 1948 Medio Oriente 1953 Egitto 1954 Spagna 1954 Stati Uniti 1955 Giappone 1957 Iran 1958 Grecia 1959 Brasile 1960 Yemen 1963 Mondo 1964 perché va in Asia in Nepal in Russia Marocco 1965 Gabon 1974 Ex Unione Sovietica 1976 Mongolia 1976 Iran 1977 Kenya 1979 Mongolia 1983 Yemen 1985 Siria 1985 Cina 1986 Etiopia 1987 Giordania 1987 Iraq 1989 Yemen 1990 Irlanda 1990 Muore Basta E' pazzesca E' un'escalation Ma chi ha viaggiato così tanto? E' una cosa impressionante Non ci si crede E voi lo conoscevate questo lato di Moravia E' veramente inesplorato E vi posso dire che questi reportage Essendo poi reportage giornalistici fatti per i lettori di giornale già Moravia era uno scrittore con uno stile veloce non lambiccato non era lo scrittore della bella pagina non era Tommaso Landolfi non era Anna Maria Ortese non c'era l'iperaggettivazione era uno scrittore che andava al sodo anche in questo molto anglosassone voleva narrare voleva raccontare oppure voleva dire cosa aveva visto in viaggio voleva raccontare i dettagli gli incontri le persone ecco quindi questi reportage hanno anche uno stile giornalistico veramente godibile cioè si leggono in un soffio dunque in India adesso vi racconto alcuni dei viaggi che lui ha fatto quello dell'India è particolare perché lui quelli i viaggi in India lui ci va la prima volta nel 1937 immaginatevi come poteva essere l'India del 37 e naturalmente come forse ancora oggi tutti noi la cosa che nota dell'India è la povertà la miseria questa è la cosa che più gli salta all'occhio anche la sporcizia se vogliamo nota e si chiede come mai ma poi il suo fatto dà colpa sia al colonialismo sia alla presenza delle caste questa immane presenza di miserabili che non hanno nessun potere nessun diritto ma poi ci torna nel 61 e nel 61 torna con la Morante che è sua moglie con cui litigherà tutto il tempo perché la Morante spalleggia Pasolini contro lui quindi sarà un battibecco continuo e torna e anche con Pasolini la cosa divertente di questo viaggio tra di loro è che uno è l'antitesi dell'altro Moravia e Pasolini sono perfette so che probabilmente ve ne hanno già parlato hanno un modo di vedere le cose che è diverso ma crea un incastro che funziona benissimo dunque per esempio loro arrivano perché sono invitati tutti e tre vanno insieme a un convegno sul poeta indiano Tagore e attraversano l'India su un gippone guidato da un Sikh e vedono Calcutta Mumbai Benares Madras eccetera eccetera Pasolini è euforico è entusiasta Moravia che era già stato in India invece è lungi dall'essere entusiasta e Pasolini trova tutti i ragazzi cioè nelle baraccopoli indiane lui pensa di vedere i ragazzi di vita del Mandrione a Roma di fatti di fatti la sera Moravia va a dormire presto e Pasolini va a ragazzi tutte le sere e torna un po' pesto la mattina in albergo qua dice Siciliano dice dopo la mezzanotte Pasolini voleva uscire dall'albergo per dragare gli indianini Moravia invece preferiva dormire avendo paura degli sciacalli che si attaccavano alle caviglie dei passanti l'amorante che appunto è in polemica continua con suo marito spalleggia Pasolini e gli dà del cinico dice che lui non è abbastanza simpatetico con questi indianini miserabili e vorrebbero lei e Pasolini riportare decine frotte di ragazzini di ragazzi di bei ragazzi a Roma ci sarà anche uno che riusciranno a portare un certo Revi bellissimo che poi si farà delle illusioni di avere successo a Cinecittà ma non succederà nulla e se ne tornerà in India dice Moravia tra Pasolini e me c'era divergenza sul terzo mondo lui sosteneva che era rovinato dalla rivoluzione industriale e dal consumismo io pensavo e penso ancora che il terzo mondo scomparirà e che non è abbastanza industrializzato e consumistico dalla cultura contadina non c'è da aspettarsi ormai più nulla di buono dunque è meglio farla finita e fare davvero la rivoluzione industriale pensate com'era in anticipo sui tempi nel pensiero noi ormai l'abbiamo capito che la civiltà contadina cioè anche quella industriale non è sto miracolo però la civiltà contadina ormai ti lega la terra come una forma di schiavitù di braccianti schiavi mal pagati mentre nei casi migliori e più fortunati almeno l'industria ti dà uno stipendio e delle garanzie sociali lui dice sempre il libro di Pasolini mi precisò perché ognuno scrive un libro naturalmente Pasolini scrive L'odore dell'India e invece adesso il titolo è La mia India ecco quindi sono il titolo di Pasolini è più caldo L'odore dell'India Moravia dice l'olfatto è il più animalesco dei nostri sensi e questo conferma il neoprimitivismo del decadente Pasolini la mia posizione è quella di accettare ma non identificarmi accettare ma non identificarmi quella di Pasolini di identificarsi senza veramente accettare sottile distinzione molto sottile però è bellissima questo calamburo quindi diciamo questo viaggio in India è importante anche per lo studio di queste due personalità di scrittori perché ce ne dà ce ne rende la differenza quella di Pasolini è passionale anche religiosa e umana mentre Moravia ecco il titolo esatto è un'idea dell'India un titolo intellettualistico anche se vogliamo un'idea dell'India cioè è il titolo di uno che fa un ragionamento sull'India che ha un'idea che se la costruisce quindi il suo tono invece in questo libro è scientifico razionale distaccato sono dunque due letture complementari passiamo agli anni 60 nel 63 per la prima volta Moravia va in Africa è molto importante per lui gli verrà il mal d'Africa poi la visiterà per 18 anni di seguito quindi per 18 anni di seguito lui andrà continuamente in Africa e la casa di Moravia dove ho la fortuna di essere stata varie volte perché è la sede della rivista Nuovi Argomenti ed è una casa che se mai vi capitasse di andare a Roma è sul Lungotevero un bellissimo appartamento si può visitare previo appartamento ha tutti i suoi libri tutti gli arredi originari e è piena di maschere africane di oggetti che lui riportò dai suoi viaggi in Africa ho visto un piccolo pezzo di documentario del 1975 che si trova su Raiplay in cui Moravia racconta l'Africa e dice che secondo lui l'Africa prenderà il sopravvento su di noi ma lo dice felice felice lo dice come una cosa naturale lui sostiene di avere un fenomeno di di patire o di avere un fenomeno di daltonismo per cui lui non vede il colore della pelle per lui nero o bianco non si accorge neanche se una persona è nera anziché bianca e comunque pensa che l'uomo africano avrà il sopravvento sull'uomo europeo dice che lui vede appunto non vede i neri vede una persona che è più o meno simpatica e soprattutto dell'africano capisce che è un uomo che è stato ridotto in schiavitù in cambio di conterie che io non conoscevo questo termine significa perline le varie dominazioni che hanno che si sono succedute in Africa compreso il colonialismo il neocolonialismo il postcolonialismo però con l'influenza subdola commerciale ed economica ecco tutte queste dominazioni non hanno fatto altro che tenere in schiavitù l'uomo africano l'abbiamo depredato e poi abbandonato l'africano non è un diverso un altro ma è l'altra ecco questa è un'osservazione bellissima secondo me lui trova che l'africano è altro ma non altro perché è diverso è altro perché è l'altra parte di noi è una parte che noi conteniamo è la parte più naturale più selvaggia più selvatica è un alter ego che noi conteniamo a cui che di solito teniamo imbrigliato è l'altra faccia dell'europeo la sua identità perduta e questo lui se ne rende conto viaggiando in Africa quando è a contatto con la natura è la natura che gli fa capire la forza di questa umanità africana di questo uomo primitivo in mezzo a uno sterminato continente e spopolato descrive Moravia un'Africa stavo guardando l'ora perché mi hanno detto che devo parlare per 50 minuti della preoccupazione di averli superati naturalmente lui descrive un'Africa postcoloniale con isole di neocapitalismo all'interno della quale si distinguono due culture diverse non solo per usi e costumi ma anche dal punto di vista economico quindi c'è una faccia europea che è quella la parte dell'Africa più evoluta economicamente è un'altra secondo i codici dei colonialisti e un'altra invece che è più naturale osserva gli africani ma non li vede immersi nella povertà lui soprattutto lì nella povertà dei villaggi lui li rapporta sullo sfondo dei grandi paesaggi riconosce questa presenza della natura che è dentro la loro vita è come introiettata e nella loro storia e proprio questa prepotente presenza della natura viene e poi quella che gli fa venire il mal d'Africa cioè solo quando è là lui capisce cos'è un africano e prende la sua stessa malattia una nostalgia che non che non lascia più chi ha visitato il continente nero a questo proposito volevo invece leggervi alcuni di voi sapranno chi è Giorgio Manganelli Giorgio Manganelli è stato uno scrittore del novecento che oggi non legge più nessuno ma di grande qualità era un uomo il contrario di Moravia Moravia era ardito coraggioso se gli capitava di restare senza un tetto era capace di dormire sotto un albero nella savana non era un uomo che aveva paura e anzi il suo coraggio il suo ardimento verrà poi spiegato da Carmeliera la sua ultima moglie dicendo è un uomo che ha patito la malattia ha visto il fascismo ha visto il nazismo ha visto l'antisemitismo gli incidenti in viaggio gli sembrano poca cosa quello che spaventerebbe altri viaggiatori a lui che ha visto la catastrofe mondiale non gli fa né caldo né freddo non la pensava così Giorgio Manganelli che era un uomo pingue pauroso fifone pieno di patologie e di paure era uno scrittore sopraffino molto diverso da Moravia che appunto aveva questo stile anglosassone Manganelli aveva una prosa ricchissima luculenta anche alla lunga faticosa da sostenere a un certo punto Manganelli viene pagato dal Leni perché vada a fare un reportage in Africa e naturalmente a tutti fa ridere immaginare questo panzone tremabondo che deve lasciare la sua casa il suo comfort le sue paure i medici la trattoria che gli serve i pasti sempre quelli sempre alla stessa ora e inoltrarsi prendere un aereo andare in Africa cosa che gli sembrava ne esce un reportage secondo me esilarante e di grande scrittura a un certo punto così racconta l'Africa ci sono Manganelli in questo bellissimo reportage l'Africa è forse una serie di luoghi inaccessibili di nascondigli all'aperto pensate il nascondigli all'aperto se si dovesse riassumere in una sola parola il sintomo continuamente ripetuto della malattia africana sarebbe isolamento non la solitudine che ha momenti preziosi ed eroici ma la coazione a non parlare non conoscere non sapere il commercio angusto la povera conversazione si trasformano in malattia in mania nasce un mondo strutturalmente e non incidentalmente povero strutturalmente che non produce perché sa di non poter offrire a nessuno di non poter raggiungere nessuno di non poter avere nulla in cambio di ciò che potrebbe offrire è questo antico isolamento che ha consentito in Africa la sopravvivenza preziosa e patologica di sacche di pura preistoria è l'isolamento che impone la lentezza di una vita intollerabilmente faticosa è incredibile come queste definizioni di mancanelli in un certo senso lui le vede diciamo con un distacco da uomo comodo nel suo appartamento Moravia con una diversa passione ma arrivano allo stesso punto cioè ci sono delle sacche di vita primitiva in Africa che sono le nostre origini la nostra storia e che vanno preservate e che sono introiettate nell'africano sempre sempre Moravia dice tutti gli altri paesi del mondo hanno una storia l'Africa lei ha invece un'anima che tiene il luogo della storia così che la storia dell'Africa alla fine quando tutto è stato detto è la storia della sua anima a un certo punto va in Africa con la Callas e con Pasolini e voi sapete che la Callas era innamorata di Pasolini ma Pasolini era omosessuale quindi diciamo dal punto di vista erotico non poterono sviluppare nulla però si creò questo rapporto bellissimo tra di loro molto importante quando andavano nei luoghi in giro per l'Africa lei era la divina era al colmo della sua carriera quindi tutte le autorità si dovevano fermare il loro viaggio era continuamente interrotto da fan della Callas da autorità da politici che volevano celebrarla far vedere che la Callas era andata nel loro paese e vanno anche in Marocco dove Moravia si ricrede ma soprattutto Pasolini si ricrede sull'Africa perché vede un Marocco invece che è completamente diverso non è primitivo come il resto dell'Africa era un paese in via di industrializzazione aveva una cultura millenaria e in quel viaggio si incrina a Scricchiolo alla visione che ha Pasolini di delle baraccopoli africane che lui accomuna alle baraccopoli italiane degli anni 50 romane nella fattispecie quelle dove andava a caccia di ragazzi sempre in questo rapporto con Pasolini vi racconto un aneddoto perché poi sono belli anche gli aneddoti a un certo punto Pasolini e Moravia vanno invece in viaggio a Bucarest portandosi Ninetto Davoli erano andati a curarsi con il Gero Vital che si trovava solo a Bucarest il Gero Vital era un toccasana si immaginava per l'incipiente Vicchiaia Pasolini iniziava a perdere i capelli e iniziava a tingerseli Ninetto lo tradiva con le ragazze quindi Pasolini era continuamente nervoso perché lo tradiva con le rumene Ninetto Davoli che era bisessuale al ristorante dell'albergo Moravia notò che Pasolini veniva riverito dai camerieri mentre lui si deve ignorato al colmo della stizza questo raccontò poi Ninetto Davoli avrebbe gridato io sono Alberto Moravia facendo scoppiare a ridere Pierpaolo e Ninetto mentre nel viaggio in India Pasolini era quasi uno sconosciuto e Moravia era riveritissimo anche per i suoi romanzi pubblicati da Penguin Book le parti si erano rovesciate perché ormai Pasolini era famoso era un regista importante conosciuto in tutto il mondo Unione Sovietica ci va la prima volta nel 58 e poi ci tornerà più volte negli anni a venire è un paese che in quegli anni è un immenso laboratorio politico e sociale e quindi per un intellettuale come Moravia è molto interessante studiare lui era votava PC e quindi studiare il comunismo reale e la realizzazione o irrealizzazione come diremmo noi adesso ne approfitta e non è che va solo in Russia ma viaggia in Georgia in Armenia in Uzbekistan e trova naturalmente lui è uno che si documenta sempre quindi prima legge i grandi autori legge i grandi teorici insomma si prepara e fa questo nei suoi reportage dalla Russia in cui incontra anche delle personalità importanti a un certo punto incontra pure Stalin farà dei reportage per i giornali vi cito alcune frasi di Carmeliera tratte da un'intervista fatta da Mirella Serri su Moravia viaggiatore quindi parla di un Moravia già vecchio perché lei lo sposa che lui è un vecchio le sue doti erano la razionalità e la lucidità sottolinea Aliera lui detestava quello che chiamava il sentimentalismo stucchevole e amava l'analisi e la logica il suo fascino intellettuale era innegabile e anche la sua autorevolezza me lo ricordo in Africa tra disavventure che mi atterrivano e che andavano dal guasto dell'aereo al soggiorno non programmato nel buio della foresta senza aiuti né soccorsi era imperturbabile consumava l'ultima baguette che ci era rimasta e canticchiava aria dalle nozze di Figaro era il suo modo coraggioso di cimentarsi con l'imprevisto questo era frutto della sua storia personale i lunghi anni della sua malattia e le vicissitudini sotto il fascismo lo avevano molto temperato poi parla Carmeliera della visita a Hiroshima una visita a Hiroshima lo segnò profondamente capì che in occidente si stava sottovalutando il pericolo della bomba atomica come c'è il tabù dell'incesto bisogna creare quello della guerra scrisse Moravia purtroppo non c'è riuscito perché le guerre continuano e questo viaggio di cui lui poi scriverà in un libro che si chiama l'inverno nucleare è un viaggio dell'82 e il tema è la precarietà umana che purtroppo continuiamo a patire a vedere e a soffrire vi parlerei anche di qualche qualcuno dei reportage americani perché l'America per noi italiani è comunque sempre un terreno una misura di racconti e di descrizione ed è stata questa si raccontata da tanti scrittori italiani per esempio Mario Soldati l'ha descritta in più noi italiani abbiamo con l'America un rapporto controverso fatto come diceva Umberto Eco l'anti-americanismo eterno che permea l'immaginario italiano e che è stato plasmato secondo Umberto Eco negli anni 30 durante il fascismo c'era Borgese c'era Cecchi Cecchi era un odiatore Borgese invece insegnava negli Stati Uniti Prezzolini insegnava negli Stati Uniti Soldati era un ammiratore i racconti di Moravia risentono di questa ambivalenza anche lui preferisce New York ad altri luoghi degli Stati Uniti detesta Chicago la trova bruttissima ha sempre freddo infatti quando a un certo punto prende il biglietto per andare in Messico è perché ha bisogno di un po' di caldo non ne può più del freddo degli Stati Uniti a un certo punto tiene una lezione al Vassar College una conferenza e si arrabbia molto perché le incolpevoli ricche ragazze americane non sanno niente di Mievo e di Svevo finalmente una delle ragazze delle studentesse alza la mano e questo l'ha scritto l'ho raccontato in uno dei suoi reportage allora lui è pronto a dare chiarimenti su Mievo e su Svevo grato di questo interesse improvviso e invece la ragazza gli chiede se potrebbe per caso farle da cavaliere nel prom il prom è il ballo annuale perché il suo moroso si è ammalato questo nel mezzo della lezione e lì si vede Moravia che è un professorino severo romano nato nel 1907 che improvvisamente è gettato in una cosa tipo Footloose il film in un college movie e comunque ci va e quindi lui dice eccomi dunque mutuato da professore a Cicisbeo e quindi se ne va preso in giro da queste ragazze che magari hanno la villa in Florida e il Panfilo perché iscritte al college ovviamente sono figlie di ricchi e da loro viene subito spedito a comprare il bouquet e poi dice va al ballo mi spiegò la studentessa che al ballo avrei dovuto ballare con 16 sue compagne e negli intervalli stare con lei poi bevono tutti molto come in uso degli americani prendono la macchina e in mezzo a una tormenta di neve vanno fuori strada e questo è scrivere il reportage anche dell'uscita di strada per la gazzetta del popolo nel 1936 forse anche in seguito a questa vicenda scriverà poi una cosa che oggi non si potrebbe più scrivere un pezzo ferocissimo contro le donne americane dice che pensano solo ai soldi la donna americana e quale le condizioni della vita nel suo paese l'hanno formata il matrimonio è un'associazione d'affari concubinaggio locale legale si sposano molto giovani sono ignorantissime e quando diventano vecchie si danno a qualunque tipo di beneficenza con lo stesso zelo con cui in Europa si buttano sulla religione poi vabbè in un commento Dacia Maraini scrive che diventerà meno misogino crescendo Moravia perché questo l'ha scritto appunto negli anni 30 e dice e poi dà dei giudizi antropologici micidiali sugli Stati Uniti dice il cosmopolitismo americano con i migranti talvolta provenienti da civiltà antiche raffinatissime come per esempio l'Italia e la Germania avrebbe dovuto produrre una delle civiltà più ricche e più profonde del mondo invece accade il contrario tutti questi migranti arrivati in America si spogliano delle loro origini e dice tre quarti della personalità dell'europeo è composta di elementi culturali religiosi politici sociali tradizionali che fuori del paese che li ha prodotti o muoiono o sono d'ingombro sbarcavano dunque gli emigranti sacrificando all'America la parte più originale di loro stessi cultura da sostituire alla loro l'America non ne aveva la vita degli Stati Uniti si fissò così sul piano più basso quello economico pensate è abbastanza così cioè tutti noi abbiamo la fascinazione per l'America e ci andiamo quando poi restiamo lì un po' a vivere ci rendiamo conto di questa per noi assurda folle cioè o sei un miserabile homeless che sta per la strada oppure tutto è misurato in termini economici ed era già così cioè ti spogli di ogni forma di cultura anche la tua originale se vuoi aderire all'America l'adesione è questa lui dice il Nuova York questa è una definizione bellissima è come l'Africa l'uomo pensa soltanto a campare e soddisfare certe esigenze fisiche poi racconta molto la tecnologia americana i supermercati già negli anni 50 è preveggente dice che questi grandi mall saranno la fine dei piccoli negozi l'abbiamo visto quello che poi è successo là e poi adesso sta succedendo qui i grandi centri commerciali che fanno chiudere le botteghe uccideranno decine di piccoli negozi individuali poi racconta gli alberghi per esempio qua ecco la mole brutale del Conrad Hilton Hotel l'anno passato dice di si parlò addirittura di costruire una di queste mostruosità del signor Hilton anche sul gentile Montemario sopra Roma e poi l'ha fatto perché si chiama Rom Cavalieri ma la collina di Montevario è devastata da questo mammozzone micidiale parallelepipedo che è Lilton poi ovviamente Lilton si farà e Antonio Cederna fratello di Camilla che era un ecologista e il fondatore d'Italia Nostra così dirà che con quel mammozzone si è spezzato per sempre il ponentino cioè ha bloccato l'arrivo dell'aria su Roma poi arriva fino a Ovest va a San Francisco e scopre una civiltà totalmente psicanalizzata viene portato in giro da signore californiane che lo mollano in macchina ad aspettare mentre corrono dal loro strizzacervelli e qui queste notazioni sembrano un po' Woody Allen avanti poi va a vedere questa bellissima va a vedere le cascate Niagara Falls con Saul Bello premio Nobel grandissimo scrittore le cascate sono la seconda più grande delusione delle coppie la prima notte di nozze gli dice lo scrittore americano la prima è la prima notte di nozze diventeranno amici anche con Norman Myler poi scriverà Dacia lo andavamo a trovare spesso ogni volta aveva una nuova moglie poi torna in America nel 68 molte volte va con la nave come anche nei viaggi in Africa per esempio nel viaggio in Africa nell'Africa più nera con Dacia Maraini e con Pasolini loro prendono una bananiera e attraversano tutta la Guinea con ritmo lento di questa bananiera dove non ci sono turisti leggendo osservando questa bananiera che percorre il fiume a lentezza inimmaginabile e il viaggio dura un mese sulla bananiera la Cina beh la Cina gli fa molta impressione Moravia beh Shanghai la trova una città di stranieri che non ha di cinese che la popolazione ma in realtà è stata costruita ideata e pensata dagli stranieri è brutta moderna e fangosa pensare che oggi la consideriamo la città più bella della Cina dice una città schiettamente americana dove gomito a gomito vivono la più abietta miseria e la ricchezza più sfacciata Moravia attraversa tutta la Cina e impara a conoscere il paesaggio che si ripropone sempre uguale sentite una casa con la risaia accanto un bufalo in mezzo all'acqua e poi le tombe e intorno la sterminata pianura tutta percorsa da invisibili canali sui quali scorrevano le vele di invisibili barche ecco questa è la Cina e probabilmente è ancora molto così e poi forse vi do ancora un dettaglio perché sono andata oltre volevo dirvi del viaggio in Grecia il viaggio in Grecia è per lui molto angosciante ne fa vari di viaggi in Grecia il primo nel 39 poi un altro nel 59 lui lì si sofferma naturalmente è preparatissimo ha letto i poeti greci ha elementi di storia dell'archeologia greca e però lì è colpito dalla decadenza il concetto della decadenza lo mette in un tono di malinconia pensa allo stato attuale della civiltà greca e vede quanto è stata grande riflette sulla bellezza dell'arte che è stata sempre un'arte che è stata sempre al servizio della religione e poi della città come fonte di ispirazione la religione e la città e poi invece è finita la religione è finita la città e in Grecia non si è espresso più nulla e questa decadenza lui la usa per cercare di spiegare il mistero della Grecia a lui fa venire malinconia soprattutto per gli enormi spazi vuoti dove non ci sono più abitanti non c'è più nessuno va a Delfo a Micene a Olimpia sono luoghi non curati immersi pienamente nella natura le rovine ormai sono mangiate dalla natura la natura dice diventa parte della storia e viceversa si fondono insomma il paesaggio greco dà sempre questo senso di vuoto e di recente abbandono sono partiti verrebbe voglia di mormorare sbucando in certe valli di chiedere dove sono andati tutti è come rientrare a casa una casa dove non c'è stato più nessuno da anni e anche la Spagna gli fa impressione per i vuoti e per gli spazi sconfinati però insomma penso di avervi dato un po' un saggio di di una parte di questo uomo che è stato un grande uomo che è stato un grandissimo intellettuale e soprattutto che ha avuto tante capacità di di esercitare la sua interiorità in tanti modi diversi anche fisici viaggiare è un lavoro è una attività molto fisica è faticosa non è come starsene a casa a scrivere un libro e lui aveva una gamba che funzionava poco quindi se questo racconto di questa sera ha contribuito a darvi un'idea più rotonda della personalità di Moravia ne sono molto contenta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti